ciao a tutti ciao ragazzi oggi iniziamo l'avvento l'avvento ci ricorda che cristo viene tornerà come lo ha promesso e nel frattempo ci lascia due pilastri così come siamo qui a san pietro senvincoli che ci ricorda questa chiesa una fortezza veliare veliare e pregare veliare essere attenti con gli occhi aperti riflettere comprendere discernere e pregare coltivare questa intimità filiale con il dialogo continuo e perseverante con nostro padre il filosofo del secolo scorso diceva pregare e pensare al senso della mia storia quindi con questi due pilastri affrontare ciò che dice il vangelo delle situazioni sconvolgenti che sono cambiamenti importantissimi questi cambiamenti che implicano anche dentro di noi con le nostre persone affrontarli con questo per non appesantirci cioè non permettere che ci anestetissino né che ci facciano deviare per avere una luce una luce che ci conduce alla verità e la verità che è Cristo Cristo che viene Cristo che confermerà nel cammino continuo del nostro camminare giorno per giorno verso una pienezza allora auguri a tutti che diventiamo uomini e donne nell'avvento buon cammino a tutti